Ok, niente, sto soltanto preannunciando dopo la pubblicità che ci sarà questo ingresso di un altro giornalista che parlerà qui con noi, quindi proseguiamo. No, per fine il discorso, Eder dovrebbe essere, la pronuncia portaviglia dovrebbe essere. Però, secondo me, giocando diversi anni, dobbiamo ricordare questo, che comunque gli sponsor sono una grande cosa, soprattutto nello sport e nel calcio, tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? Impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui è uscito... ...messo sul Portogallo, io voglio sapere questo, se qualcuno si è arricchito magari giocando alle scommesse questo Portogallo e gli europei. Io personalmente... Sì, perfetto Filippo.